Siamo da Frosinone Salernitana che sarà appunto all'anticipo domani alle 20.45 di Francesco in conferenza ha detto che ha quasi la rosa al completo, mancherà l'usuardi a Rui, per il resto ci sono tutti, quindi il giocatore consigliato, l'abbiamo detto anche nei quattro nomi di giornate, Sule non segnala dieci giornate, in casa contro la Salernitana assolutamente si schiera, la scommessa diciamo è che dirà perché comunque è un altro giocatore sicuramente che si può schierare, un giocatore che potrebbe anche battere i rigori qualora Sule non lo volesse battere, sconsigliato Coli perché comunque è un giocatore a rischio e insufficienza, nella Salernitana priva di Candreva, squalificato Ciaunà un po' l'unico giocatore che si può schierare se siete un po' in difficoltà, la scommessa è Vignato, non è nemmeno detto che possa partire titolare in ballottaggio con Martegani, sconsigliato Fazio potrebbe ritornare a essere titolare, ma non mi sento di consigliarlo per questa giornata. Lecce e Monza sabato alle ore 15, il Lecce ha necessità di fare punti per arrivare alla salvezza prima della fine, il prima possibile diciamo, nel Lecce ricordiamo che il duo Cristovic piccoli potrebbe essere riconfermato, ritorna Alquist dalla squalifica però il giocatore consigliato è Oden e la scommessa è d'Orgu, Oden è un giocatore che può giocare sia davanti sia a centrocampo, mezz'ala di inserimento d'Orgu nel 4-4-2 è l'esterno di sinistra, abbiamo visto come ha trovato la via del gol, quindi chiaramente un difensore che gioca a centrocampo si può assolutamente schierare, sconsigliato Baschirotto, lo ricordiamo lo scorso anno come un giocatore sicuramente da modificatore, quest'anno la sua media è sensibilmente diminuita. Nel Monza col Pania, la ricerca del bonus, si può schierare la scommessa e Maldini, non sappiamo se partirà o meno titolare però Palladino l'ha detto più volte e sta crescendo nel Monza, sta dando continuità di prestazioni, lo avete, magari lo andate a schierare con l'adeguata copertura. Izzo è il giocatore sconsigliato per questa giornata nel Monza. Juventus-Milan sabato alle ore 18, nella Juve Vlaovic ha ritornato al gol nella sfida contro il Cagliari, quindi assolutamente si può schierare la scommessa e Bremer perché anche col Cagliari non ha fatto benissimo, però è un giocatore che sale nei calci d'angolo, va vicino alla rete, magari contro il Milan, riesce a trovarla, quindi sicuramente Bremer può essere la scommessa e giornata, sconsigliato Locatelli, ennesima prova in colore anche la scorsa a Cagliari, ci aspettiamo l'ennesima insufficienza, quindi virate su altri profili. Nel Milan, Leao-Pulisi sono i giocatori un po' più consigliati, la scommessa in casa Milano e Ciukweze dovrebbe partire dalla panchina, ma alla fine magari partirà anche i titolari, in ogni caso è in forma, è uno dei giocatori più in forma del Milan, lo mettete con l'adeguata copertura. Sconsigliato, ciao, rientra dalla squalifica, non ci dà le necessarie garanzie anche perché con Vlaovic che vorrà sicuramente fare il gol, ciao, sicuramente non lo andiamo a consigliare. Lazio-Verona, sabato alle 20.45, nella Lazio, Luis Alberto è il giocatore consigliato, Felipe Anderson in dubbio, potrebbe ritornare dal primo minuto a Zaccagni, anche lui può essere schierato con l'adeguata copertura, ma la scommessa è Castellanos, dopo i due gol in Coppa Italia, ci aspettiamo che possa trovare continuità a livello di bonus anche in campionato. Sconsigliato, Isai, dovrebbe essere lui il titolare della fascia sinistra. Nel Verona, Nozlin, sia da esterno, sia da punta centrale, quindi come falso 9, può essere sicuramente consigliato, l'ha detto anche Baroni in conferenza stampa, lui è sicuramente un valore aggiunto alla scommessa e Suslov, da troppe giornate non porta a bonus e anche calato il suo rendimento nell'ultimo anche partito dalla panchina, ci aspettiamo magari una prova di carattere da parte del centrocampista Veronaise. Sconsigliato, Serdar dovrebbe essere lui comunque il titolare, sempre a rischio a munizione. Inter-Torino è stata spostata domenica alle 12.30, nell'Inter ragazzi, è ovvio, è già campione d'Italia, sono tutti più o meno schierabili, un nome, Turam, sta ritrovando la continuità di inizio stagione, l'ha scommessa tra virgolette fratesi, vediamo se finalmente giocherà dal primo minuto, in ogni caso andatelo a mettere, sconsigliati, non abbiamo messo in casa dell'Inter perché sinceramente è molto difficile andare a sconsigliare, giocatori dell'Inter sconsigli magari gente che non arriva nemmeno a voto. Nel Torino Zapata è il giocatore più schierabile, sta trovando, ha trovato in questa stagione una forma che non trovava diverso tempo, la scommessa è bella nuova, ex di turno, ha diminuito il suo rendimento appena un assist negli ultimi sei partite, però Alex vorrà sicuramente far bene nello stadio dove ha giocato lo scorso anno, quindi Bellanova scommessa sconsigliato Voivode in ballottaggio con Lazzaro, ma sinceramente non ci sentiamo di andarlo a consigliare. Bologna Udinese, domenica alle ore 15, Bologna che arriva dalla vittoria, dalla netta vittoria in casa della Roma per 3-1, Zirze è il giocatore consigliato, la scommessa è la Zuzzi. Tutti pensavamo che Fabian potesse essere il primo cambio di Ferguson invece e la Zuzzi ha giocato bene, ha fatto un gol, lo andiamo a mettere come scommessa in questa giornata, sconsigliato in Doie perché comunque è un attaccante che non si è ambientato, non è un giocatore che magari può portare bonus, magari troverà anche il bonus, però sinceramente mi aspetto che andate a schierare le alternative che avete in avanti. Nell'Udinese, Pereira è il giocatore consigliato perché è rigorista, gioca a supporto della punta, la scommessa è Samarzic, da lui ci aspettiamo sempre qualcosa in più, vediamo un attimino nella sfida contro i Buoni, ricordiamo che stasera tra l'altro ci saranno gli ultimi 20 minuti di Udinese-Roma, vediamo anche stasera come andrà a giocare, è sconsigliato Camarà perché comunque dalla sua parte dovrebbe giocare Orsolini e quindi per questa giornata non ci sentiamo di andarlo a consigliare. Atalanta-Empoli, domenica alle ore 18, nell'Atalanta bisognerà capire chi giocherà perché comunque l'Atalanta arriva dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia e dovrà giocarsi la semifinale di Europa League contro il Marsiglia, quindi in campionato che comunque sta giocando il posto Champions contro l'Empoli ci sarà sicuramente turnover. Kuhl-Mainers in ogni caso lo andate a schierare con copertura, la scommessa è col Asinac, dovrebbe essere lui il terzo difensore centrale sulla sinistra, magari regala qualche bonus, quindi comunque ci può stare, andarla a schierare, è sconsigliata a Tebur e in balottaggio con Zappacosta, ma non è la Tebur che ci aveva fatto sognare qualche anno fa in ottica fantacalcio. Nell'Empoli, Niang, visto l'infortunio di Cerri, sarà presumibilmente lui il titolare, Cambiaghi la scommessa, tra l'altro ex di turno, vorrà sicuramente far bene nello stadio dove è cresciuto, Valuchiewicz tra i vari difensori dell'Empoli è quello meno consigliato. Napoli-Roma, domenica alle ore 18, nel Napoli Politano, diciamo che il giocatore è consigliato, certo si possono mettere anche Osimene, Valaschelia, però diciamo che Politano è quello che sta meglio dei tre, Zielinski è la scommessa perché comunque al di là del fatto che comunque non giocare il prossimo anno nel Napoli, ha furia di giocare meglio rispetto a Traoré, ha ritrovato la titolarità, quindi ci sta andarla a schierare, sconsigliato John Jesus, tra l'altro ex di turno, può rischiare l'insufficienza. Nella Roma, Di Bala, anche lui bisogna capire se giocherà o meno, si mette con l'adeguata copertura, la scommessa è il Ciarawi che dovrebbe giocare sulla tre quarti, sconsigliato Uisen, dovrebbe essere lui il titolare, ci aspettiamo magari qualche insufficienza, quindi vireremo su altri profili. Fiorentina-Sassuolo, domenica alle 20.45, nella Fiorentina, Martinez quarta, potrebbe essere titolare, lo mettiamo, è comunque un difensore che il bonus ce l'ha dentro, abbiamo visto anche in Coppa Italia che ha segnato contro l'Atalanta, la scommessa Iconè, Iconè perché? Perché arriva a due gol consecutivi, non ha mai trovato questa continuità nel nostro campionato, quindi in casa contro il Sassuolo ci può stare andarla a schierare, sconsigliato Milenkovic, non abbiamo certezze di titolarità, ma anche ieri ha fatto l'errore che poi ha portato all'espulsione e poi ha fatto comunque rinsavire l'Atalanta negli ultimi minuti, Milenkovic, altro errore, grossolano, altra insufficienza, quindi anche contro il Sassuolo non ci sentiamo di andare a consigliare, nel Sassuolo Pina Monti si può schierare come terzo slot se siete in grossa difficoltà, è comunque rigorista della squadra, Tolian è la scommessa, è ritornato dall'infortunio, sicuramente un altro rendimento rispetto a chi l'ha preceduto, non sappiamo che tipo di votazione possa prendere, però è un rischio che si può assolutamente tentare per questa giornata, sconsigliato Ferrari tra i vari difensori centrali sempre a rischio e a munizione. Chiudiamo con Genoa Cagliari lunedì ore 20.45, posticipo della 34esima giornata, nel Genoa Gudmundson si mette, rigorista, batte le punizioni, è sicuramente il giocatore più in forma, retegui la scommessa, un giocatore che comunque ha il gol, può portare bonus contro il Cagliari, si può assolutamente schierare, sconsigliato Vogliacco, dovrebbe sostituire Bani che non è al meglio, non ci sentiamo di andare a consigliare. Nel Cagliari Gaetano, sia che parte titolare, sia che non parte titolare, si può mettere anche lui con adeguata copertura, Shomurodov, tre gol e tre assist nelle ultime sei partite, tra l'altro ex di turno, ci può stare schierarlo come terzo slot, sconsigliato a Zidiacos in caso di conferma della difesa 3 da parte del Cagliari a Zidiacos, diciamo che dei tre dietro è quello che dà meno garanzie.